Oggi è il momento del dolore. Credo che sia amici che avversari debbano rendere omaggio a una grande personalità che ha segnato la vita economica, della comunicazione e politica del paese e non solo. Per quanto riguarda ha segnato anche la mia storia familiare e politica. La sua amicizia con mio padre era un'amicizia vera, solida, profonda, duratura. Erano due uomini e due personalità diversissime che si erano incontrate e si erano capite. Due visionari e anche durante la mia battaglia di verità di questi anni l'ho sempre trovato al mio fianco. Vorrei salutarlo come spesso facevo durante i nostri incontri. Adieu, mon grand combattant. Ci mancherà.